Rolex GMT Master 2 Oro Rosa, l'eccellenza dell'eleganza e dell'innovazione orologera. L'orologio da polso Rolex GMT Master 2 Oro Rosa è una meraviglia dell'orologeria, un capolavoro che unisce l'ineguagliabile bellezza dell'oro rosa alla precisione e all'innovazione tipiche di questo iconico modello. Il GMT Master 2 Oro Rosa di Rolex va oltre la sua straordinaria bellezza, è anche un concentrato di tecnologia avanzata. La sua caratteristica più distintiva è la funzione GMT, che consente di visualizzare simultaneamente due fusi orari diversi. Questa funzionalità è particolarmente preziosa per i viaggiatori frequenti, i professionisti internazionali e chiunque abbia bisogno di tenere traccia di orari diversi in tutto il mondo. La ghiera bidirezionale e la lancetta GMT di colore diverso offrono un modo intuitivo e affidabile per monitorare i diversi fusi orari, garantendo la precisione cronometrica che è sinonimo del marchio Rolex. Il GMT Master 2 Oro Rosa di Rolex è noto anche come Root Beer per la sua lunetta marrone e nera. Questa combinazione di colori richiama la famosa bevanda nordamericana Root Beer. Questa versione del GMT Master 2 è tra le più eleganti e raffinate, caratterizzata da un tocco di classe senza tempo. La scelta del materiale per il bracciale, noto come Everos, si abbina alla perfezione alla cassa in oro rosa, creando un aspetto armonioso e raffinato che rende questo orologio un pezzo unico nel suo genere. Oltre al suo stile inconfondibile, il GMT Master 2 Oro Rosa di Rolex ha stabilito una serie di record nell'industria orologera. La combinazione di materiali pregiati, design impeccabile e tecnologia avanzata ha catturato l'attenzione di appassionati e collezionisti in tutto il mondo. Questo modello ha contribuito a ridefinire i parametri di qualità e design per gli orologi da polso di lusso, dimostrando l'impegno costante di Rolex nel creare segnatempo eccezionali. La fusione tra l'oro rosa e la tecnologia all'avanguardia crea un'esperienza visiva e funzionale senza pari. Indossare questo orologio significa scegliere un accessorio di lusso che riflette il gusto raffinato e la ricerca dell'eccellenza.